preparativi ecco voi qua ci sono le biciclette facciamo un test di fotocamera legata al casco qua sembra tutto regolare c'è una nebbia infinita come potete vedere qua è un disastro il furgoncino ci ha fatto da assistance per la risalita e ora noi ci prepariamo a buttarci nel fog